non sapevo cosa regalare un mio amico interista che deve fare il compleanno poi ho pensato ma vado sull'interstore e vedo cosa c'è guardate cosa ho trovato ragazzi incredibile lo trovi solo all'interstore perché dicono che è un pezzo originale che fa solo l'interstore bello è idea regalo volete fare un regalo particolare a un amico interista beh il pupazzo di gravina dice che lo metti sul mobile dice che quando vuole parla pure così si minaccia dice che se tu dietro c'è un pulsante se tu l'accendi minaccia dice che butta fuori le squadre che faranno la superlega è clamoroso attiva il bar quando se tu stai guardando la televisione all'improvviso di appare la bar quindi è una cosa veramente io non ho mai visto lo trovate sull'interstore il pupazzo di gravi prodotto ufficiale interstore comunque tu che viene a scrivere sotto i miei video te l'ho detto io e le cose offensive i commenti non li approvo tu che mi hai detto devi morire ricordi che più fai così e io più ti farò video contro l'inter te li faccio scattare quello fai che te da merda che ti faccio scattare perché io sono alla parte di poter fare i video tu restarei sempre un commentatore di merda che sotto i miei video non usciranno mai i tuoi commenti e ritieni fortunato perché se faccio vedere quello che scrivete come faccio vedere io mi dovete pregare in ginocchio di cancellare i commenti quindi state attenti e più fate così e più vi faccio scattare il corpo a proposta morto da fai fai un pregalo all'amico tu regalo un pupazzo di gravi grazie a tutti grazie a tutti